Musica Si spengono luci e musiche in un locale. A Seregno il questore di Monza Marco Dorisio ha disposto alla chiusura del pubblico esercizio per 15 giorni a seguito delle numerose violazioni riscontrate. Nei fatti, pur non avendo le autorizzazioni, era una vera e propria discoteca. La prima segnalazione risale lo scorso 19 maggio, quando la polizia locale di Seregno aveva riscontrato nel locale, già segnalato per schiamazzi notturni, bivacchi e assembramenti, una serata con DJ Set, nonostante non ci fossero le autorizzazioni in regola. Più di 500 le persone presenti, ognuna di loro doveva pagare una consumazione obbligatoria di 12 euro. Senza il ticket che lo provasse, da mostrare al buttafuori, era impossibile uscire. Nel locale, al posto di sedie e tavoli, luci psichedeliche, musica ad alto volume, fotografi solo tra i tavoli presenti per consentire a un cliente di festeggiare il suo diciottesimo compleanno. Gli agenti inoltre hanno riscontrato come nell'occasione fossero stati serviti alcolici a minorenni. In più, i vigili del fuoco presenti al blitz hanno riscontrato molte irregolarità rispetto alla presenza di numerosissime persone all'assenza di un piano di evacuazione, oltre che all'uscita di emergenza bloccate dalle persone presenti. Tutto ciò si è tramutato in una diffida al titolare del pubblico esercizio, la quale è seguita un'ordinanza del comune di Seregno che ordinava la chiusura del locale. Nonostante il provvedimento, le serate danzanti sono proseguite lo scorso 19 luglio a secondo blitz della polizia locale, nella quale sono state riscontrate tutte le violazioni rilevate nella precedente ispezione. Da qui la denuncia del titolare per apertura abusiva di luogo di intrattenimento, lo stop per un mese e mezzo, disposto dal questore. 150.000 euro di danni alle strutture scolastiche gestite dalla provincia di Monza e dell'Abrianza È la conseguenza degli eventi meteorologici estremi che hanno colpito il territorio tra venerdì e martedì. Tra i vari interventi, all'Esenberger di Monza sarà necessario rimuovere e sostituire 5 alberi ad alto fusto danneggiati dalla tempesta. Al Morante e al Castiglione di Limbiate bisognerà sistemare ben 20 alberi. Al Versari di Cesano Maderno, al Fermi di Desio e al Mapelli di Monza bisognerà riparare contro soffitti, impianti elettrici e pluviali, oltre che ripristinare le recinzioni. E ancora allo Zucchi e a Monza sarà necessario rifare le gronde, rimuovere altri due alberi. All'Europa Unita di Lissone, a Ferrari di Monza e all'Omni Comprensivo di Limbiate bisognerà rimuovere i lucernari, sistemare vetri delle finestre cancellate. All'Olivetti di Monza, registrati i danneggiamenti alla linea di colmo tetto, alle tegole, alla cancellata e al verde. Fini a Porta di Monza c'è una recinzione da ripristinare e un albero da sostituire. Non solo scuole e altri danni sono registrati sulle strade provinciali per un totale di 50.000 euro. Con grande forza è stata colpita l'SP35 Milano Meda, oggetto di un intervento di messa in sicurezza dopo che l'ultima tempesta aveva compromesso gli impianti di pubblica illuminazione. Molti anche gli interventi di sgombero e messa in sicurezza delle carreggiate, seguiti soprattutto per via della caduta di alberi lungo la SP7 ad Arcore, la SP58 a Villa Santa, la SP131 a Muggiò, la 178 a Busnaga e Cornate d'Adda, oltre che per la rimozione di tettoie scaraventate in strada dalle raffiche di vento. Sono stati poi effettuati importanti interventi di disostruzione della rete di smaltimento delle acque meteoriche mediante la pulizia delle caditoie. La protezione civile è stata impegnata 24 ore su 24, senza risparmio di forze e di energia, sui diversi fronti a supporto delle sezioni locali. Il presidente della provincia Luca Sant'Ambrogio, ringraziando Regione Lombardia per aver portato avanti la richiesta di stato di emergenza presentata dai comuni Brianzoli, sottolinea come se da una parte dovremo sempre più abituarci a convivere con eventi meteorologici estremi come questi, tramite una costante opera di prevenzione, controllo e preparazione. Dall'altro, dice Sant'Ambrogio, dovremo sempre più spingere per attuare misure che combattano il cambiamento climatico, di cui ancora una volta abbiamo avuto testimonianza non solo qui al nord ma anche al sud, a quale esprimo la mia più sincera vicinanza. Terminata la festa dell'attesissimo concerto di Bruce Springsteen al Parco di Monza, per gli organizzatori e l'amministrazione è arrivato il momento di tracciare un bilancio sull'evento, dalla decisione di procedere con lo spettacolo dopo i nubi fragi dei giorni precedenti all'impatto sulla città. Innanzitutto bisogna dire una cosa, la responsabilità di questa scelta, che non è ovviamente esclusiva del sindaco, ma è stata condivisa con la questura, con la prefettura, alla luce di dati oggettivi sulle condizioni di sicurezza dentro e fuori dal parco, e delle situazioni anche che si stavano registrando in città, è quindi stata una decisione molto complessa e niente affatto banale. Se è stata presa una certa decisione, ossia di confermare il concerto, è perché sono state messe sul piatto della bilancia tutte le esigenze di quel momento e quelle a cui si era già data risposta. Le forze che sono state impiegate in città non erano le stesse che sono state impiegate all'interno del parco. All'interno del parco, sottolino, si sono messe all'opera 45 operai specializzati, quindi sia il Consorzio sia ovviamente l'amministrazione con tutte le forze e le protezioni civili hanno lavorato in parallelo per consentire il ripristino della viabilità normale, della quotidianità di tutti i cittadini e dall'altra parte per gestire un grande evento mettendo ovviamente a bilancio il fatto che si sarebbe dovuto gestire comunque l'afflusso in città di 50.000 persone, tante provenienti dall'estero e che si sarebbero trovate molto disorientate qualora fosse stato rinviato il concerto e si sarebbero trovati appunto nella città peraltro già aggravata dalla situazione di quei giorni. Adesso probabilmente si procederà all'individuazione di aree un po' più critiche che ancora hanno bisogno di interventi e poi ovviamente sui giardini purtroppo appunto c'è stato l'abbattimento di una delle due carce gemelle e anche lì con la dovuta delicatezza del settore, dei giardini, si andrà a intervenire. Siamo molto soddisfatti di questa sentenza che risponde sia nel metodo che nel merito della controversia. Luigi Rot, presidente di Autostrada per i Montana Lombarda, commenta così la decisione del TAR di Milano di respingere il ricorso presentato dal comune di Lesmo e da quattro condomini che si opponeva al provvedimento di proroga della pubblica utilità dell'opera. Il Tribunale Amministrativo della Lombardia è entrato nel merito della controversia e ha confermato la legittimità della proroga sia dal punto di vista motivazionale che di estensione temporale. Questo, la posizione numero uno di Pedemontana, è un progetto di grande qualità sia dal punto di vista tecnico e realizzativo, sia ambientale. Siamo sicuri che le nuove tratte che stiamo per realizzare potranno rappresentare una grande opportunità di sviluppo sotto molti fronti. È un'autostrada, spiega Luigi Rot, che per la quasi totalità del tracciato si sviluppa in trincea e in galleria. È rispettosa dell'ambiente e sicura che togliera traffico da una delle aree più dense di popolazione ed imprese d'Italia e anche una delle più belle della nostra regione. La società, conclude il presidente di Autostrada Pedemontana Lombarda, è impegnata con tutte le energie per realizzare l'opera. Preferiamo infatti concentrarci su aspetti costruttivi e non sui contenziosi che drenano risorse a noi e alla collettività intera. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Grazie. 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 Grazie.